In questo video vi mostrerò e commenterò un esercizio sul login. Partiamo prima di tutto da come funziona questo esercizio che ho sviluppato e che come il solito vi renderò pubblico. Quando noi lanciamo i server, posso rilanciarlo, e andiamo su localhost 3000, come solito il server viene renderizzato a una pagina che si chiama login, una URL che parzialmente si è localhost 3000 slash login che appunto vi chiede di fare il login con un indirizzo mail e una password. Se noi andiamo a vedere per un momento nella struttura del programma, vediamo che non c'è una pagina login. E quindi questo login è quello che stiamo realizzando con del routing, come abbiamo visto nei video precedenti. Questa, essendo la stessa applicazione di prima, vuol dire che noi possiamo avere una pagina che si chiama exams e vedete che andando sulla pagina exams lui ci rimanda alla pagina login, perché appunto tutte quelle informazioni sono previste per un utente logato. E possiamo notare anche nella console che la nostra applicazione cerca di accedere ad API exams, ma ritorna a un 400 bad request, proprio perché non è autorizzato a accedere a quella pagina. Allora, proviamo a fare il login. Io ho creato, ho un database che adesso vi mostrerò, ho creato un paio di utenti, uno si chiama test-univo.it e la password per test-univo.it, con tanta fantasia, è test. Ovviamente qui non ho una validazione sulla password, ma questo è un form come tutti gli altri. Quindi premendo su login vedete che fa il redirect alla nostra applicazione che avevamo prima, con corsi, e mostra un banner dove dice welcome e poi il nome utente, in questo caso la mail, della persona che si è appena loggata. Banner che si può chiudere con quella X. Allo stesso modo, dato che siamo loggati, premendo su esami possiamo vedere la pagina. Se aggiorniamo la pagina, rimaniamo loggati, così come se andiamo nell'indirizzo e scriviamo espressamente exams. Cambiamo correttamente la pagina, grazie al routing, e rimaniamo comunque loggati. Se premiamo logout, veniamo sloggati e torniamo sulla pagina di login, e quindi se noi per esempio qui scriviamo exams, abbiamo il comportamento di prima che ci rimanda sempre al login. Questo è realizzato utilizzando le route, come abbiamo fatto prima, lato client, e ovviamente tutto il meccanismo di login offerto da Passport che abbiamo visto nel video precedente. Ora, come è stato fatto questo che abbiamo visto? Allora, prima di tutto diamo un'occhiata al database. Nel database ho aggiunto una tabella, che si chiama utenti, che ha appunto due utenti, una che è appunto test-unupo.it e uno che si chiama student-unupo.it. E vedete che nel database c'è una colonna password con le hash realizzate con Bcrypt di delle password rispettive di test-unupo e la password rispettiva di student-unupo. E in particolare la password di test, nel caso vogliate, del primo utente test-unupo, nel caso vogliate provare, è test, e la password di student-unupo, con grande fantasia, è student. L'altra modifica che ho fatto dal database, e per farlo ho dovuto ricreare la tabella esami, è stata quella di aggiungere una chiave esterna a questa tabella, un'altra chiave esterna a questa tabella, che si chiama user-id, in modo da poter associare un singolo esame a un singolo utente. E quindi noi loggandoci come test-unupo.it vedremo i primi quattro esami superati con questi quattro voti in queste quattro date, e non vedremo l'ultimo, perché l'ultimo appartiene all'utente che ha id numero 2, che è student-unupo.it. Loggandoci come student vedremo che student ha solo sostenuto un esame, il cui codice è MF0363, il 15 febbraio del 2020, prendendo 25. Quindi questo è il database, come vedete non è cambiato molto, abbiamo aggiunto una tabella esami, una tabella utenti con un id, e una chiave esterna per creare una relazione, una-molti, tra utenti e esami. Cosa è cambiato nel codice? Partiamo nella struttura del codice, nei file, non è cambiato niente, essenzialmente. Si è aggiunto un template, è il template che rappresenta questo form, ma andiamo in ordine. Partiamo dal client. Per prima cosa abbiamo creato questa pagina, la pagina di login. Quindi in app, ecco, al momento è ovviamente tutto in app, perché è relativamente semplice come applicazione, se avessimo l'applicazione precedente in cui abbiamo anche filtri e quant'altro, avrebbe senso in maniera analoga a quello che facevamo prima, dividere le varie cose in varie classi e importarle quando necessario, per non avere tutto un unico file enorme. Stessa cosa app si applica in parte al server. Ma guardiamo cosa abbiamo cambiato rispetto alla versione precedente. Rispetto alla versione precedente abbiamo aggiunto una nuova root, che è appunto quella di login. E non è nessun metodo, in realtà in particolare, su questa root, a differenza di exam che aveva il metodo show exam. Ma per la pagina di login facciamo tre operazioni. La prima è quella solita, che facevamo anche nell'esercizio precedente, svuotiamo questa barra. La svuotiamo perché vogliamo che non si vedano, per esempio, è una scelta, non è necessariamente giusta o sbagliata, che non si vedono le altre pagine. Tanto qualunque clic facciate su quelle pagine, porta di nuovo qui. E allo stesso modo non vogliamo che si veda il bottone logout. Questo perché, ovviamente, non ha senso che dare all'utente la possibilità di fare il logout se non ha ancora fatto il login. La seconda cosa che facciamo è riempire il contenuto della pagina con questo create form login, che essenzialmente è, vedete, preso da qui, è un template. Chiamo questo template, che esattamente è un template literal che crea senza variabili javascript particolari questa pagina, questo form di login. Con i campi appropriati, quindi il campo email nel primo, required, e quindi se io inserisco qualcosa che non è un email, lo lascio vuoto, dovrebbe darmi errore, e con il campo password, anche questo required, altrimenti non si può sottomettere. Sul campo password potremmo poi aggiungere altre validazioni che qui non sono state aggiunte, ma per motivi, diciamo, didattici, per darvi un esercizio, dato che ho creato due utenti con delle password veramente banali, tipo test, che è una password troppo corta, non l'ho aggiunto. Quindi creiamo la pagina, svuotiamo il navlink, aggiungiamo il login del form, e al login del form, dato che questo è un form, intercettiamo con un event listener l'evento di submit di questo form. Quindi agganciamo al login form, che ha l'ID ottenuto dal form, quindi scritto qui, nella pagina HTML, che a questo punto questo è stato inserito nella pagina HTML, quindi è disponibile da document, aggiungiamo un event listener al submit, e quando c'è il submit di questa form si chiama on login submitted, in maniera analoga a quello che capitava quando faceva per l'aggiunta di un nuovo task o di un nuovo esame nei laboratori precedenti, proprio identico. questo on login submitted ricorda molto l'aggiunta di un nuovo task o di un nuovo esame del passato, per cui come prima cosa facciamo un prevent del default di questo evento, poi recuperiamo il form dal target dell'evento, controlliamo la validità del form, e se il form è valido, chiamiamo l'API per fare il login. Chiamiamo l'API per fare il login, che è appunto in questa classe API, passando a quest'API i due valori che ci interessano, l'email recuperata dal form e la password recuperata anch'essa dal form. Quando questa operazione va a buon fine, è un'operazione asincrona, c'è una wait, restituiamo l'user, quindi il nostro utente logato, in questo caso l'email del nostro utente, quella che abbiamo visto nella barra superiore, quindi questa, quindi questo test-unupo.it, lo recuperiamo, lo mettiamo in questo oggetto e a questo punto, vedete, creiamo l'alert, questo alert qui, passando success perché l'alert deve essere di colore verde e user che sarà essenzialmente il nome test-unupo.it. Dopo aver creato questo, facciamo un redirect alla pagina root, che è esattamente questa, perché a questo punto l'utente è logato e ha accesso al sito dal principio. se questo due login da errori, per esempio perché mettiamo un'email sbagliato, un'email non valida, o una password non valida, allora entriamo nel catch di questo due login dove stamperemo sempre, in questa parte superiore, ma di rosso, il messaggio d'errore. quindi per esempio, se noi scriviamo test-chiocciolo a unupo e mettiamo come password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e facciamo login e il messaggio che ovviamente adesso correggo è incorrect password, questo welcome è rimasto avganciato al template, suppongo. Esatto. Quindi questo ovviamente va creato prima e lo sistemo. Quindi qui ci deve essere solo il messaggio. Quindi se riproviamo, per esempio, test-unupo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ok, il messaggio è password non corretta. Se sbaglio l'indirizzo mail e mettiamo l'indirizzo prova-io.it con password qualunque e facciamo login abbiamo un errore che andrò a capire dopo ma dovremmo invece vedere incorrect username. Quindi questo lo risolvo e magari lo risolviamo mentre andiamo a vedere il codice server-side. ma quindi questo è il comportamento al netto di questo piccolo errore che comunque risolvo prima di caricarvi il file, il progetto su GitHub. Quindi facciamo il login chiamando questo dologin. Questo dologin è in API ed è una un metodo async esattamente come getcourses che cosa fa? Fa una post con un corpo dato in JSON dato da username e password e poi fa i controlli che faceva di solito quindi se la risposta è ok aspettiamo la risposta prendiamo la risposta la convertiamo in JSON e quando è pronta la memorizziamo in questo username per visualizzare l'indirizzo mail in alto altrimenti stampiamo un messaggio come capitava per la password e quindi ritorniamo il messaggio con questo throw error. Una post a quale indirizzo lo facciamo? Lo facciamo vedete questo è un altro tipo di errore perché ho salvato e quindi è rimasto una richiesta pending e quindi questo è un altro tipo di errore che intercettiamo. Una post a che indirizzo lo facciamo? Beh questo è un login e quindi potevamo fare un indirizzo API slash login però per rimanere in tema diciamo con REST in cui creiamo e distruggiamo risorse come possiamo creare un esame possiamo creare un corso possiamo prendere un corso possiamo cancellare un corso e quant'altro quando facciamo il login e quando facciamo il logout noi in realtà quello che facciamo come abbiamo visto nelle lezioni è creare o distruggere delle sessioni e quindi come si crea una risorsa in REST si crea facendo un post sulla collezione che contiene le singole sessioni ovviamente non avremo una get della sessione ma possiamo fare un post su API slash session per creare una sessione quindi fare il login e per fare il logout potremo fare una delete su API slash session eventualmente qualcosa per cancellare quella sessione specifica quindi cerchiamo di adattare un pochino per rimanere coerenti con il REST possiamo anche adattare il REST per decidere queste URL ovviamente anche login e logout sarebbero andati bene ugualmente e essenzialmente l'altra cosa che fa questa applicazione è il logout che come vi dicevo fa un delete chiamo un delete su API slash session current tanto un'applicazione web in un momento all'interno di un tab può avere solo una sessione aperta correntemente quindi ci basta usare current come identificativo della sessione e l'ID della sessione verrà mandato ovviamente nel cookie ecco possiamo vederlo questo cookie adesso test se noi ispezioniamo la pagina e andiamo in application vedete che abbiamo un cookie che ha come nome connect.seed che è il cookie creato dal nostro DA Express che ha come valore questa stringa che è il session ID generato da passport partendo dal secret che gli abbiamo passato ha come dominio localhost perché siamo su localhost ha come path slash perché è la root è un dominio è un path di sessione non ha una scadenza è un path di sessione quindi scade appena la la sessione scade ha una dimensione di 93 byte e vedete che è HTTP only ha questa spunta per dire che questo è HTTP only quindi da javascript non possiamo accedere al contenuto di questo cookie possiamo leggerlo direttamente nel browser qui perché il browser può accedere in quanto deve usarlo anche per fare una fetch ma noi dal codice javascript non possiamo accedere al cookie poi vedete non è secure perché non siamo assaggiati TPS e non ha una proprietà diversa da default per same site che è un'altra opzione che si può un altro attributo che si può impostare ok come viene chiamato questo logout beh anche qui abbiamo una root sul logout che chiama il metodo this.logout che è una chiamata asincrona perché? perché abbiamo una wait che chiama il metodo del logout e poi modifica nasconde appunto il pulsante di logout e fa un redirect alla root di nuovo che a sua volta mostrerà login qui potevamo anche scrivere ovviamente un redirect direttamente a login l'effetto sarebbe stato lo stesso e questo è essenzialmente le modifiche fatte alla parte clean side il form di login e l'aggiunta del bottone logout e la gestione di questo form di login con due metodi sulla fetch questo perché ovviamente vedete nel metodo che abbiamo usato con la fetch non gestiamo in maniera particolare né nel delete né nel get courses né nel get exam il cookie perché come vi dicevo questi sono esattamente identici rispetto a prima perché come vi dicevo i browser passano automaticamente i cookie che appartengono al proprio dominio al proprio path e quando c'è una richiesta come queste per esempio e quando l'applicazione web e il server a cui sono destinate queste richieste sono nello stesso dominio e nello stesso path come appunto è questo caso in quanto questa patch è su localhost ha come path ha come dominio localhost 2.3000 e parte appunto direttamente dalla root dove sono state fatte le modifiche ovviamente maggiori sono nel file express di server proprio perché la sessione è gestita dal server quindi lo stato è gestito da server allora cosa abbiamo fatto di nuovo abbiamo importato come abbiamo visto nel video precedente passport abbiamo importato local strategy abbiamo importato express session perché ci servono e in questo esempio c'è anche questo che è un session file store nel caso uno nel caso per mostrarvi anche un esempio basta scommentare questo è una riga un pochino più in basso per mostrarvi come utilizzare memorizzare le sessioni non in memoria ma su file in questo caso quindi questo con questa estensione di passport di express session la sessione viene memorizzata su dei file nella vostra cartella nella cartella del progetto invece che nella memoria del computer e poi troviamo la local strategy con username e password come abbiamo visto nelle lezioni in cui prendiamo da DAO l'utente facendo una query passando username e password e restituiamo due valori sia user sia check user ci serve per verificare se il nome utente è valido e se non lo è mandiamo il messaggio quello che dava errore nome utente incorretto e altrimenti andiamo avanti questo check serve per controllare se le password è corrette se questo check non è valido mandiamo il messaggio password incorretta se l'username esiste e check è a posto possiamo ritornare done con l'utente creato che cosa fa questo DAO get user questo DAO get user fa essenzialmente ecco qui una query una select asterisco from user where email è uguale alla username dato che stiamo usando la username come l'email come nome utente e fa una query get identica a quello che facciamo per prendere il singolo esame o il singolo task e se appunto se riesce mette crea un oggetto user con id e username mettendo in id l'id dell'utente memorizzato nel database e come username la mail ovviamente in questo oggetto user non mettiamo la password perché perché la password di Nash non interessa tipicamente all'applicazione ma usiamo raw.password per solo confrontare vedete con il modulo bcrypt se la nostra password passata dal form e la password l'hash della password memorizzata nel database sono uguali quindi se sono uguali questo check va true se non sono uguali questo check va false e quindi viene passato dall'altra parte per gestire l'errore rimanendo in questo metodo abbiamo anche una funzione in questo file in questo modulo abbiamo anche una funzione che si chiama getuserbyid che fa la stessa cosa di getuser ma per id e non per utente e non fa il controllo sulla password questo ci serve per la serializzazione della sessione torniamo nel server quindi abbiamo impostato la strategia e quindi come verificare che il nome utente e password siano corretti o meno e poi abbiamo la serializzazione e la deserializzazione dell'utente in maniera molto simile a quanto abbiamo visto nelle slide quindi la serializzazione prende l'oggetto l'utente ottenuto per esempio dalla funzione precedente e utilizza l'id dell'utente quindi uno oppure due nel nostro caso per associarlo a un id di sessione appena creato la deserializzazione fa il contrario la deserializzazione una volta che arriva il cookie con l'id di sessione recupera l'id dell'utente che corrisponde a quel cookie e questo lo fa passport passa chiama questa funzione deserialize passa l'id recuperato dalla tabella tra sessioni e id e recupera attraverso il metodo che abbiamo già visto appena visto getUserById l'utente corrispondente e a questo punto con il done restituisce nessun errore e l'utente è recuperato questo user va al suo interno sia un campo id che rappresenta l'id dell'utente sia il campo username che rappresenta il vedete il campo username che rappresenta l'email dell'utente quindi questi sono i quattro metodi i tre metodi che abbiamo visto già nelle slide poi inizializziamo Express impostiamo il logging e creiamo il metodo isloggedin esattamente in maniera identica quanto abbiamo fatto nelle slide qui sarebbe più corretto mettere 401 in realtà non authenticated se proprio volessimo e poi questo è tutto uguale a prima e c'è l'impostazione della sessione l'impostazione della sessione con secret che in questo caso è una frase a caso più esplicativa per voi che non reale che dice appunto è una frase segreta da non condividere con nessuno da nessuna parte che perché viene usata per firmare per criptografare la sessioned che è inserita nel cookie e se vogliamo possiamo abilitare questo store che dice appunto che invece di utilizzare uno store in memoria della coppia sessioned e usered in questo caso utilizziamo un file store adesso lo abilito un attimo perché così possiamo vedere come memorizza visto che non possiamo accedere alla memoria per vederlo possiamo vedere come lo memorizza su file e vedere questo mapping tra user di e sessione a questo punto inizializziamo password come vi ho raccontato nelle nelle slide ci sono le nostre API che sono rimaste uguali se non per la callback aggiuntiva is logged in il middleware che appunto prima di chiamare questo verifica che l'utente sia loggato con questo rec.isautenticedit e se non è loggato manda 401 quindi se noi qui scriviamo direttamente exams il browser riceve un messaggio 401 e viene renderizzata questa pagina di login e poi c'è il metodo per creare il login e il metodo per fare logout guardiamo prima il metodo per fare logout il metodo per fare logout perché l'altro è un po' un po' più complicato il metodo per fare logout vedete riceve una delete a questo indirizzo e chiama il metodo di passport logout che si preoccupa lui di cancellare la sessione giusta prendendo l'informazione dal cookie e poi rispondiamo nella risposta con un end perché abbiamo finito lì non abbiamo niente da comunicare potremmo rispondere con 200 case se volessimo nelle slide vi ho mostrato poi come gestire come utilizzare passport per inviare a seguito del login che è questa parte commentata questa parte commentata ha il problema la caratteristica che non è facile inviare messaggi d'errore personalizzati ma si può solo avere un messaggio unico d'errore generico tipo mail o password errata mail e o password errata se vogliamo invece avere messaggi personalizzati e quindi quello che in teoria avrebbe dovuto funzionare ma del tutto e quindi per esempio un messaggio d'errore per il nome utente e un messaggio d'errore per la password come quando impostiamo la local strategy quindi definiamo come effettivamente facciamo il login per verificare che questo username e questa password siano quelli che vogliamo che dobbiamo controllare nel database possiamo utilizzare questa modalità che è un pochino diversa vedete app post API session è esattamente identico alla versione normale però invece di avere middleware passport punto autenticate e poi chiamare rec res utilizziamo direttamente una callback una callback di middleware perché ha questo next e all'interno di questa callback utilizziamo passport punto autenticate local esattamente come prima e gli passiamo a un secondo parametro che è un'altra callback quest'altra callback ha i tre elementi che sono i tre elementi della funzione done la funzione done che abbiamo qui sopra la funzione done ha errore utente messaggio e questa funzione qui ha errore utente e messaggio che si chiama info allora cosa fa questa funzione qui dentro possiamo avere accesso a questo info che è esattamente quello che passiamo in questo terza in questo terzo argomento quindi possiamo accedere direttamente al contenuto di questo di questa variabile altrimenti possiamo solo accedere vedete nel modo normale potremmo solo accedere qui potremmo solo accedere alla richiesta o intercettare in qualche modo l'errore che viene generato da password punto authenticate in un modo creando una nuova funzione comunque fuori da questo e quindi avremo meno facilità a intercettare gli errori potremmo ovviamente dire se rec.user è false vuol dire che c'è un errore quindi gestirla qua dentro però qui riusciamo a gestirla con più diciamo così precisione perché se l'utente non è valido possiamo mandare un 401 con il messaggio di informazione che dovrebbe essere incorrect username se la password se l'utente è valido gli facciamo fare il login esplicitamente senza questa altra modalità fa automaticamente questo rec.login ma noi andiamo a intercettare il comportamento di questo passport punto authenticate perché vogliamo gestire in maniera precisa gli errori e allora andiamo dobbiamo fare alcune cose a mano noi sempre usando le funzionalità che ci mette a disposizione passport e quindi diciamo che se l'utente è valido a questo punto non abbiamo mandato un messaggio d'errore possiamo realizzare il login e se questo login va a buon fine ritorniamo rec.user punto username esattamente come facevamo qui altrimenti se questo login d'errore ritorniamo l'errore alla prossima funzione prossima funzione che in questo caso non c'è perché il metodo finisce qui e questa la il metodo finisce qui vedete non non ha un'altra funzione questa è chiamata subito direttamente come fosse una IFE ecco questo è l'esempio del login ovviamente qualunque applicazione che dovreste fare che dovreste fare voi può partire da questo esempio perché questo è comunque un recuperare le informazioni dal database questo può rimanere praticamente identico se non la modalità con cui recuperate le informazioni dal database questo può assolutamente rimanere uguale e anche il metodo di login potete scegliere la versione facile dove non avete una gestione fine degli errori oppure la versione un po' più complicata dove avete la gestione fine degli errori però la gestione fine degli errori avviene qui e il login con successo avviene qui tutto il resto è praticamente identico a quanto abbiamo fatto adesso volevo farvi vedere solo come ultima cosa il comportamento di questo file store allora vedete che se noi lo lanciamo col file store e ovviamente facciamo refresh e facciamo il login vedete facciamo il refresh intanto lui crea una cartella che si chiama sessions che è vuota che prima non c'era se facciamo il login corretto in questa cartella viene aggiunto un file un file che vedete ha le informazioni del cookie quindi ha cookie con un max age null che non scade che http only che ha il path slash e poi ha questo mapping della sessione tra l'id dell'utente 1 e l'id della sessione che è questa stringa che è messa direttamente nella cartella come nome del file e poi ha un ultimo accesso di questo tipo e se noi andiamo a vedere di nuovo il cookie dovremmo avere in application dovremmo avere un cookie che è rappresentato che è mappato su questo codice quindi questo sono collegati attraverso questo codice non è esattamente lo stesso valore ma passport è capace a prendere questo e a convertirlo a mapparlo su questo automaticamente perché se no non saremmo loggati e vedete che io se cambio questo valore di ultimo accesso cambia perché l'ultima volta che ho ricevuto un cookie dato che questo corse e questi esami fanno delle get a loro volta e aggiorna questo e in maniera analoga se io premo log out dovrebbe cancellarmi questo file vedete non lo cancella in realtà ma svuota lo user id e se io rifaccio il login lui crea un nuovo cookie e in realtà in questo caso riutilizza lo stesso codice rimanda un valore probabilmente molto simile a prima e a questo sempre user 1 al suo interno quindi su file fa questo mapping in qualche modo tra il valore del cookie e il titolo di questo file di questa sessione e riempie opportunamente la sessione ma questo è solo se doveste per esempio se non voleste usare il salvataggio in memoria qual è la differenza tra il salvataggio della sessione su file e il salvataggio della sessione in memoria la differenza è che se io per esempio stoppo il server e la faccio ripartire e aggiorno vedete che rimango loggato perché? perché la sessione è ancora valida nessuno l'ha invalidata ed è ancora scritta su file se io invece stoppo il server e ritorno alla modalità in memoria quindi commento quella riga e commento questa riga e rilancio il server vedete che non rimango più loggato ma va bene perché ho tolto il riferimento alla memoria ma se io mi loggo correttamente e facciamo prima quindi stoppo il server e lo rilancio e aggiorno vedete che non sono più loggato proprio perché la sessione era memorizzata in memoria e finché il server era in esecuzione la memoria era le informazioni in memoria erano valide appena il server si è stoppato le informazioni in memoria sono state cancellate questo ripeto va benissimo in sviluppo in produzione non è tanto ottimale avere tutte le sessioni di tutti gli utenti collegati al server in memoria ora ovviamente in produzione il server non viene spento e riacceso spesso come possiamo fare nel sviluppo ma effettivamente può essere anche quello può essere una condizione un po' negativa